Pietro ASMR Ciao a tutti o ragazzi Come va? Spero tutto Super 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 bene Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video Oggi, come potete ben notare, mi trovo in una location diversa dal solito Una location no green screen ma al naturale È un bosco, infatti, che si trova vicino a casa mia E devo ammettere che ho studiato abbastanza per arrivare sino a qui E quindi corretevi bene questo video, mi raccomando L'ho sempre voluto fare un video in questo bosco Ho trovato poi questa location perfetta con questo soppalco in legno in cui Sto ora seduto Che è proprio ideale per il video Sembra proprio che l'abbiano montato per me Lo sfondo è davvero idilliaco Faremo un po' di trigger qui Poi mi sposterò vicino a questo albero E infine vi farò sentire il suono della mia camminata Su queste foglie che ho qui dietro Che è meraviglioso Quindi, 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 quindi Prima di cominciare però A parte il fatto che sono molto fiero di me stesso Per essere finalmente riuscito a filmare Voglio parlarvi Poiché siamo in un bosco barra foresta Di lui Ancora una volta di lui Il libro di Serenella Sindaco La foresta delle luci Vi ricordate che per poter riuscire a vendere in grande scala questo libro Necessitava di raggiungere le 200 copie preordinate Quindi Vediamo un po' se riusciamo a farcela arrivare Trovate il link nella descrizione Io vi ricordo che è un libro davvero meraviglioso Integante Che vi terrà davvero incollati sino all'ultima pagina La foresta delle luci In cui ci sono queste misteriose creature I cani luminosi Questa almeno è la leggenda E appunto un gruppo di amici I Seven Forever Capitanati dalla ragazzina Anna Cercheranno di portare a galla questa verità Davvero, davvero Un bel libro Un mix tra realtà e fantasy È davvero, davvero super consigliato da parte mia Quindi non dovete perdervelo Ambientato nella cittadina dal nome di Coteland E famosa proprio per questa foresta delle luci Che cela a quanto pare questo segreto Che dovrà essere svelato dai nostri protagonisti Preordinatelo È davvero importante Perché potremo coronare il sogno di Serenella Che se lo merita davvero tanto Il link è nella descrizione Bene, bene Ora vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E di andarvi sicuri su Instagram Per non perdervi nessun aggiornamento Link in descrizione Qui ho qualche triggerozzo preparato Proprio appositamente Prima di spostarci nell'altra zona Quindi voglio appucciare il microfono E cominciamo con i suoni Intanto sentite già quelli naturali Che mi circondano Che meraviglia Partiamo da queste foglie Che ho trovato ovviamente qui Un, due, tre, quattro, cinque Un, due, tre, quattro, cinque Un, due, tre, quattro, cinque Un, due, tre, quattro Un, due, tre, quattro, cinque Un, due, tre, quattro, cinque Un, due, tre, quattro, cinque L'ultimo tu rimastra Ok, e adesso vorrei passare a questo rametto Andandogli a togliere un po' della cortezza E adesso faccio la parte della cortezza E adesso faccio la parte della cortezza E adesso faccio la partezza Un po' di cortezza da volta Guardate il legno pulito senza correre Guardate quanto è chiaro e limpido Guardate il legno Diciamo che possiamo accontentarci, l'abbiamo scordeggiato un pochetto, il giusto diciamo, il giusto, davvero un bel suono Tutti rimasti i buttati sul microfono giusto perché avevo voglia Bene, adesso mi voglio spostare da quest'albero qui perché fa un suono davvero, davvero sublime Venite, andiamo Ed eccoci qui giunti all'albero, eccolo qui in tutto il suo splendore Adesso vi andrò a far sentire qualche suono che riesce a dimettere, con il mio aiuto ovviamente Quanto è bella la natura ragazzi, è proprio ricca di suoni, la natura è l'ASMR, lo incarna davvero Allora for your sick Avicenatevi un po' di più Grazie per la visione 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 Bene, con lui direi che abbiamo finito Ora voglio farvi sentire il suono delle foglie calpestate che è sempre il mio preferito in assoluto Andiamo Andiamo Grazie per la visione 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 Grazie per la visione